Ci sono storie che nascono per caso ma che diventano esemplari, come quella che domenica prossima unirà la gammautomolfetta di Pallacanestro all'associazione Wend Barca, una onlus che dal 2009 raccoglie fondi per la realizzazione di progetti in Burkina Faso. La scintilla della solidarietà è scattata nel giorno di Natale, come racconta il presidente della gammautomolfetta Antonio Pucci. Il giorno di Natale, siamo fermati per salutare un amico e abbiamo conosciuto questo signore Luca Valente che si chiama, che fa parte di questa associazione. Parlando del più del meno ci ha spiegato un attimino cosa loro facevano per questi ragazzi, per questi bambini, in cui mi ha colpito tantissimo. Il giorno di Natale ti prende quella cosa e insieme al vicepresidente abbiamo deciso, ci siamo proposti dicendo guarda facciamo una partita in cui l'incasso lo devoliamo in beneficenza a questa associazione. Quella che sembra una favola diventerà storia concreta domenica prossima. Il Palapoli assicura che chi conosce la passione per il basket della città di Molfetta sarà colmo di spettatori. Occasione giusta per contribuire all'iniziativa della gammauto che destinerà l'incasso della serata e anche le offerte volontarie interamente all'associazione Wendbacca. E se per la vittoria sul campo bisognerà misurarsi con Maddaloni e lo scontro diretto nella Serie C nazionale, due pilastri del Molfetta, quali il capitano Francesco Teofilo e il pivò Domenico De Falco, sono sicuri del risultato che maturerà in questa gara di solidarietà. La società facendo questa iniziativa secondo me ha fatto una bellissima cosa, sia per questi bambini sia per dare anche un segnale a queste organizzazioni. L'importante è che siamo noi primi a mandare questo messaggio di solidarietà. Quello che succede è appunto questa iniziativa della società che cerca di tramite la partita di domenica, invogliando la gente a venire al palazzetto, fare una raccolta fondi per poi mandare a questi bambini sia soldi che anche magari vestiti, per cercare di regalargli un futuro migliore. Quello di domenica sarà il primo passo di una collaborazione che palla Canestro Molfetta e Associazione Wendbaka, che nel 2012 ha completato in Burkina Faso la realizzazione di una scuola, porteranno avanti nel tempo. E il primo canestro realizzato lascia intendere che difficilmente si potrà perdere la partita della solidarietà.